Musica Salve a tutti ragazzi sono Zomestad e convintissimo qui questa sera quest'oggi perché dopo le miriadi di video di Advanced Warfare Mmm quel gioco, mmm quel gioco siamo tornati su zombie Un video zombie però un po' particolare perché non ci saranno le solite persone ma rivedremo dei vecchi ritorni Sì lo so vi avevo promesso la nostra custom ma quella è pronta, arriva e che aspettiamo ad essere tutti disponibili per farla Ma qua com'è quest'oggi questa sera convinto c'è il nostro cantautore, il nostro convinto che canta in generale Quest'oggi colui è d'esa, colui costui questunque d'esa E... Colui che non canta stasera perché non ha voce e ha mal di denti No non hai voce, cioè stasera non canterai Dai qualche accenno Salve... no ragazzi non c'è Salve, va bene basta E a me la voce è appena tornata quindi ti capisco Ecco e poi c'è un vecchio, un ritorno, una vecchia fiamma del gruppo Che ha partecipato a una partita su Slums, non so se ve lo ricorderete, lui è... Burri, bella Burri che si chiamava Burrito fino a... adesso è Burri, poi adesso cambia nome, non si sa chi è La mappa che andremo a fare oggi è Collingwood Psychiatric Hospital Vi ricorda qualcosa, a me fa già paura Vi ricorda qualcosa, vero? Vi ricorda qualcosa, vero? Oh Ma a me ricorda Jambu sta mappa Ricorda Jambu così a casa, è presa Cioè me l'ha consigliata a Just White Che non è il White di Wanya Non c'entra niente, è un canale... fa anche lui cazzo Salutiamo Wanya Salutiamo Wanya In generale A posto E la mappa è appunto ambientata Nel manicomio, nell'ospedale psichiatrico Burrito adesso ne indovinerà di che gioco Beh, questo qui lo conosco Ci sono già stato tempo fa Per fare i problemi Direi Outlast Outlast Brava Sti titoli di coda Assettiamo questi titoli di inizio Inizio Voi si chiama titoli di? Eh, non ve lo ricordo cazzo Pre-pre-pre-titoli Pre-pre-prefazione Titoli di testa Eh, 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 titoli 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 Sentite la colonna sonora e il volume è altissimo che vi nasconde le vostre voci A posto Lagga... no, non è vero Come fa a laggare? Io ho 4G perché sono a Beluno Quindi non può laggare Fatti tranquilli Beh dai Ovviamente la Brickness, ok Ogni tanto va su 200 Non capisco il perché Però a posto Non dovrebbe laggare Oh, notate il coso di Elite Marker Quando sparate che è sborrata? Cioè questa è... Queste sono le custom ragazzi Come vivremo senza le custom? Come faremo? Cosa faremo senza le custom? Perché le custom non le hanno fatte sugli altri giochi? Come mai non ci sono custom ovunque? A posto Ragazzi Allora, secondo me qua c'è già qualche cosa per la song nascosta Però voi Desa subito a cercare la song Lui è esperto di song Secondo me sto telefono rosso Questo mi ricorda Five Esatto, anche a me mi sembra che mi ricorda Five Però non è quello Non è quello Male, male Desa nella ricerca disperata delle song nascoste Il zombie va stentando cerca di fregare qualche zombie Il volume secondo me è ancora alto Non lo so, più lo abbasso più mi sembra alto ragazzi Allora Burri Mi arrivano un po' dopo i colpi però fa niente Mi dica Burri, lei che è Ripeto, un esperto Senza dubbio della modalità zombie nelle custom Ha partecipato a Slums E ricordiamo tutti la sua bella figura Che ha fatto su Slums Vero Burri? Mmm, direi Sì Quindi quest'oggi dovrai Insomma, hai capito Dovrai Ridimostrarti per valere il valore Del valore Per continuare a partecipare nelle custom La gente qui sotto al video Dovrà votare Nell'ultima parte Oh cazzo è data terra Desa Dovrà votare chi dei due spelleri Se è Desa o Burri Ovviamente non prendetela troppo sul serio Perché alla fine li spellerò entrambi Quindi non preoccupate Ovviamente spellerà a me Perché io sono Desa No no, tutti e due Ragazzi sono morto Burri Burri sei solo tu in piedi Vediamo se riuscire a salvare questa situazione di merda Bello You add your gas Cioè Beh Senza Un round Con Tanti tanti zombie Ok ragazzi A parte che vedo un'arma a muro qui Io temo Che noi dovremmo aprire il prima possibile Esatto Perché ho visto già gli zombie troppo incazzati Sì, sì, bravo E non morivano Io tiravo granate Perché il caro vecchio Bonjambo Mi ha insegnato Tirate granate Quando ci sono queste Granate Granate Non ha mai funzionato Però Noi Continuiamo a Comunque vedo anche l'aperto Secondo me la mappa si ambienta con un po' l'aperto Vedete la fontana Che figata Io spero che non ci siano cose perché ci spaventino Io personalmente compro subito l'M14 Non so perché ma Vediamo un po' Chi dei due mi seguirà nella scelta Io Molto bene Desa Che segue Zovivas nella scelta Molto bravo Molto bravo Un punto in più per l'espulsione finale Cioè In meno per l'espulsione finale In meno In meno In meno In meno Ah ok Volevo aiutarti Un punto in più aburrito per l'espulsione finale Ragazzi ricordatevi le votazioni Io vi voglio Voglio che voi spammiate Qua sotto proprio spam 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 Ragazzi voi non potete buttarmi via Se no non sentirete più le mie canzoni Esatto ma però oggi Il fatto che tu sei senza voce Ma però non si dice Ma però oggi Il fatto che tu sei senza voce Non ti aiuta hai capito Dovresti cantarci qualcosa Per convincere il pubblico Io non ci metto Allora Dopo lascia uno zombie E non ti preoccupare Cos'è Mi fai partire le robe Che hai registrato in In sottofondo Registrazioni audio Ma no Vado a prendere la chitarra di là Ah vabbè Prendere la chitarra di là Certo Burri In realtà è qua di fianco Ave sul letto Però è quella elettrica Dovrei andare a prenderla così Burri ti conviene inventarti qualcosa Perché hai già perso in partenza Se lui va a prendere la chitarra Potrei mettere qualcosa in playback In playback A me sta uscendo Il dente del giudizio Mi fa un male porco A me è ancora nulla Perché si può sparare Da dietro i muri? Hai notato Hai visto che figata Che sborrato Però tu Desa Non puoi prendermi L'M14 muro E poi non utilizzarlo Perché è Aspetta E fammi usare prima la pistola Ok ora l'uso È un punto perso Oh bravo burrito Che apre Un punto in meno Per l'eliminazione a burrito Yeah Yeah Un punto in più a Desa Perché non ha perso La posso Cazzo va Siete di nuovo pare Adesso ragazzi Cazzo vuoi Cazzo vuoi cos'è Cattivo Vi insulti Sì Io prendo Lemmo Senza avvertirvi Così non caricate Non c'è niente da caricare Come si fa ad andare dall'altra parte Tu dovresti caricare l'M14 Desa Ricorda Era caricissimo l'M14 Certo O esploriamo la mappa Vai Hai scelto la porta giusta Chi è entrato? In sala registrazione Scusami Chi è che deve essere bannato? Chi sei? Chi sei? Mi chiamavi Dimmi che sei Nova Nova No Nova Lamentavo il fatto Lamentavo il fatto Che la qualità audio In questa sala È 7 Invece Nel resto è 10 Perché Questa descrizione Vai E perché io più di 7 Non posso aumentarla Chi sono io Per non poterlo fare? Ok Ora è perfetto Molto bene Sento che ci stanno editando Il canale Nova A questo punto Fai un saluto Perché 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 Di sì Perché Sei entrato In sala registrazione Cosa altro Sto facendo In sala registrazione Nel live No Non sono in live Però Ben bel taglio Di Mettere registrazione Così Io non taglio nulla Ragazzi Ragazzi Ho fatto una minchiata Cosa? O dai Vi lascio Voi Ho fatto una minchiata Un saluto Nova Ciao Ciao ragazzi Ciao Ciao C'è vitalità In questa chat Ragazzi Ho fatto un estremamente Ho fatto un estremamente Minchiata Davvero Cosa hai fatto? Dimmi Hai aperto qualcosa C'è Sapete i bagni? Sì Ok Sono sotto un buco Sei sotto un buco Vengo a farti compagnia Così Facciamo No 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 Non si può più salire Non si può più salire A meno che non hai 750 punti per andare Prima 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 Dove sono i bagni E' peggio della mia scuola Questa Dove cazzo sono i bagni Che casino è sta mappa Dove cazzo sono i bagni Oddio Electric R Qua vedo il simbolo Help Oddio Electric R Oh c'è un'uscita Oddio c'è anche il simbolino Del cane Ma che si può far mangiare Il cane Oh mio dio La cassa Stile mob of the test Si si sente anche la colonna sonora infatti che è molto si Oh sono nei bagni ma non trovo il luco Oh mio dio adesso muoio Oddio che arma Oddio Oddio ho fatto una cazzata ragazzi Porto Oh là c'è un tavolo da costruzione Vado io vado io Salve il problema è che chi viene a rianimarmi muore lo ha aperto Si 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 Mark 2 Si 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 Ma dai Quanto non c'è fra ci sei tu desa Cioè quante case hai fatto Dimmi solo quante case hai fatto Una 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 la prima Oddio Merda Eh Lasciatemi morire perché Se torni in vita strangolo desa nel gioco in qualche modo Lo strangolo Eh ragazzi è un po' un problema venire Oddio sei all'aperto Vedo la pioggia Sta piovento c'è un cane da sfavare Che ma Ma è questa Ragazzi E lagga Come fa a laggare il 4G a Beluno Non ho mai laggato Non ci faccio gli stream Non è che lagga a me Cala di frame Un po' diverso è fatto Ah lagga al fuori Bene 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 Mi sembra Ma qua avete il ping altino Perché di solito con 4G a Beluno Faccio pingare meno la gente C'è pingare 60 di solito il ping Vai con l'istakill Non accoltellare per dio Però puoi anche non usare la Mark II con l'istakill Non mi arrabbio Puoi anche usare la pistola È inutile che mi fai vedere che è la Mark II Bravo però che finisce il round Complimenti Dov'è la cassa? Dov'è la cassa? Fuori Dov'è fuori? Fuori Dove? Fuori Ah qua era il buco Oddio Oddio ci sono i fantasmi di Di Baried I fantasmi? Sì sì il fantasma Erano le streghe Oddio Sono streghe Oh cazzo i punti Bastarde Forse non dovremmo stare qui Forse è un round bonus Forse di ubicani Forse ragazzi Siamo fatemi fare cassa Io non so chi dei due No zero punti Brutte strozze Schifose Puttane Ok ragazzi Io sono senza punti E senza armi Sto cane Vabbè Andate a fare in culo allora no Schifose Da fare in mona Andate in mona va Ma dai Ma da non credere Ma vaffanculo Ma avevo 5.000 punti Ma dio Ma ma Ragazzi sto per Chiudere tutto Togliere questa cassa Un di merda Iscrivermi dal canale Di colui che me l'ha consigliata Fargli bloccare l'account Signalargli 500 copiere strike Che non esistono Sto per rincazzare Forse non dovremmo stare qui ragazzi Non lo so Ah no sono 25 di queste cose No 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 Noi non dobbiamo stare qui Dobbiamo andarcene da qui Continuano a spawnare ragazzi Dobbiamo andarcene Anche secondo me No 24 adesso Perché? No 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 Ma io le continuo a uccidere Perché spawnano anche gli zombie Ma Non dobbiamo stare lì Ma anche tu c'hai la Mark II? Davvero? Eh no Oddio Oddio No allora Allora ti spiego Dese Io stavo per Toglierti Circa 10 punti Cioè per raggiungerti Circa 10 punti Eliminazione Perché avevi la Mark II Di fianco ci sono 500 streghe Burrito Di fianco Burrito cosa cazzo Vai uccidile Ok Stavo per togliere Per raggiungerti 10 punti Eliminazione E mi frega anche la bibita No ho preso a posto Poi anche lui Quindi Siete pari ragazzi Siete pari Però siete due stronzi Io sono l'unico senza armi Senza punti E non posso comprarmi Anche un Mp5 a muro Cosa faccio? Consigliatemi Forse è meglio se mi suicido Non so cosa No Peggio Di me non ho ammo Bella Cosa devo fare ragazzi? Cosa? A coltellare A coltellare Is the way A coltellare sto cazzo Dio sto cazzo Sto cazzo Io non posso Adesso Adesso Io mi faccio Kill con l'Ista Che se permettete Senza andare a terra Magari Ma Ci provo Mappa che ha trattato Anche NGT Ma io Non mi sono guardato I video Per non spoilerarmela Però è stata un'idea di merda Non guardarsi i video Bisogna imparare a informarsi Sulle custom map C'è coltello 700 punti Dai posso comprarmi le M14 Mi compro le M14 Le M14 è l'arma giusta Direct gun Di sotto per la tua chitarra Eh Adesso lo vado a prendere Molto bene Shit Come 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 Io non ho Non ho munizioni Cavolo Lo trovate Io ho le M14 a muro Ho comprato le M14 Ragazzi aiuto D'adietro D'adietro Vieni qua Che con le M14 Ammazzo tutti D'adietro